Io sono stato fin da piccolo nella primavera del Pescara, ho fatto tutto il settore giovanile lì, poi sono andato a giocare con il mister di Napoli, in eccellenza a Rieti, partendo che dovevo vincere il campionato, poi purtroppo non l'abbiamo vinto. All'inizio anno sono stato a Riccione, dove ho fatto molto bene, in 12 presenze ho collezionato 6-7 gol. Perché ce n'è uno che ti contendi con un difensore avversario, mi dicevi prima. Sì, ovviamente lì ero molto seguito, di fatto ho avuto per una settimana tante chiamate da parte sia del Rimini che del Sant'Arcangelo, io ho scelsi il Sant'Arcangelo, dove ho firmato un triennale con loro e adesso sono venuto in prestito secco qui fino a fin anno a Lischia e sperando di riuscire prima di tutto a salvarci e sia per me personalmente di riuscire a giocare e continuare a far bene. Io ovviamente a Sant'Arcangelo firmai subito dopo lo svingolo in Serie D e sono stato lì precisamente due settimane, quindi sì ho conosciuto ragazzi, però diciamo non sono stato come qui perché lì non ho indossato la maglietta, non sono stato attaccato veramente a quei colori. ovviamente un triennale lì dove dovrò rispettare e a fine anno poi da me si dice Dio vede e provvede. Comunque essendo il tuo nome legato a quello di Arturo Di Napoli, perché tu sei un pupillo di Arturo Di Napoli, qualora l'avventura di Arturo Di Napoli a Lischia dovesse continuare, tu comunque saresti... Mi sarebbe molto piacere tornare. Il mio idolo calcistico fin da piccolo è stato Roberto Baggio, perché non lo so, fin da piccolo vedi quel signore lì in televisione che quando c'è la palla si inventa cose incredibili, ho detto questo è il mio idolo. Ovviamente se ero come lui adesso non mi trovavo in cima, mi trovavo forse più in alto, però io penso che ho delle grandi doti, ad esempio una tra queste è la velocità, perché sono molto veloce, ho un bel calcio e poi ovviamente io non sono un tipo che si... Dio vede e provvede. Dio vede e provvede.